Bicisport è qui Bicisport, Matteo Trentin, Matteo, decima Milano-Sanremo, Maglia Nuova, Tudor, come stai e che gara immagini? Bene, sto bene, la squadra è molto motivata, gara immagino è sempre qui, la Sanremo si deciderà dalla Cipressa in avanti sicuramente e mi immagino un'UAE veramente agguerrita perché penso che dopo quello che Tadei ha fatto vedere le strade bianche e un po' tutti sanno cosa succederà, quindi bisogna farsi trovare pronti Senti, ma attaccherà già dalla Cipressa secondo te o no? Ma chiedilo a lui, tanto te lo dice dove attacca, quindi è anche facile Senti, per te invece che Sanremo immagini sei sempre stato protagonista nei finali? Sicuramente per come è cambiato il ritmo gara negli ultimi anni dovrò sopravvivere le due salite e riuscire soprattutto a fare il poggio, magari non fare il buco sul poggio come l'anno scorso e restare attaccato ai migliori potrebbe essere una buona idea Ecco, qualche rammarico rispetto all'anno scorso No, 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 era nei piani e comunque fino a lì sono potuto arrivare davanti c'è stato un grande podio, la Saremo più veloce di sempre quindi insomma c'è un motivo se è stata così dura Senti, cosa significa anche essere il leader di una squadra giovane ma molto intraprendente? Vi abbiamo visti molto bene alla pariginizia, no? Ma sai, la squadra è giovane come hai detto tu ma ha tanta voglia di crescere di crescere in maniera veloce ma organica e quindi abbiamo già fatto vedere belle cose Senti, ultimissima, sei contento se arrivi? Uno Perfetto, grazie Matteo